Salve a tutti amici! Come state? Bene? Oggi c'è con me un'altra persona e non solo io Ciao ragazzi, io mi chiamo Davide, sono il cugino di Tommaso E ragazzi qua oggi siamo sui... Sui subreddit, su Oddly Satisfying Wow, non lo so, non l'avrei mai detto Ragazzi, prima di iniziare dovete ovviamente distruggere il pulsante dei like Se no, stasera Se no, stanotte facciamo anche ora per le 6, per le 6, per le 6 Per le 6, per le 6 Per le 6, per le 6, per le 6, per le 6 Per le 6, per le 6, per le 6 Oh, vabbè, vediamo cosa è nostra Ahm... Mettervi a... Scacciare mi piace Esatto Ragazzi condividete i video con tutti Ce l'abbiamo fatta E vai E vai ce l'abbiamo fatta Iniziamo Iniziamo Penso bastoni morti Legno morto Legno morto Eh, il Deadwood Beh Molto bello Niente da dire Beh Per me Photoshop No, sono tutte Photoshop No, non sono Photoshop Ma com'è possibile? Boh Magia Magia Vabbè vai Bene se c'è un bello Vediamo Sì dai Come fanno a mettere la glassa forse? Wow Io ci metterei lì la bocca e mangerei tutta la glassa Beh direi Wow Ma diventano bianche ma... Sì Ma non è glassa questa Sì Per me è vernice È vernice Sì è vernice È vernice, è tutta la vita è vernice Tarocca, tarocca Vai, vediamo Wow C'è una spatola Con del coso rosso lì Ancora del coso rosso Una persona Ancora un'altra spatola La terza spatola Con stavolta cosa giallo Verde Con coso verde Scuro Blu Blu E viola Viola Per me fa girare il rullo e succede qualcosa Diventa multicolor Sì ma fa girare il rullo e succede qualcosa Sì sicuro Lo sapevo Oddio ma cos'è sta roba Io mi chiedo come fa la gente Oddio Viene bellissimo poi Ma sì ma sarà dopo un'ora che sta girando il camiacomo E' stra bello Bellissimo Dove lo sapevo Che figo No Ogni blocchetto che si rompe Si Ma è finita sta roba Sì è un loop Wow Ogni blocchetto che si rompe forma altre blocchette che formano altri blocchi una casa blu di san francisco bellissima sembra una casa di natale ma a me piace ma poi la casa blu tra tre case due case bianche se quello lì è strano un po un pugno in un occhio ma è molto bello ok ci sono delle persone no che figo se questo quale credo sempre sognato di farlo ma con una sfidata stravenne di prenderlo da dietro che glielo può bellissimo ma è stra bello sta roba vabbè vai giù vediamo dell'insalata cos'è qua un petardo un petardo che gli fa saltare tutti l'onda di sticchetti di ghiaccioli e secondo me li piacciono in ghiaccioli comunque e mi sa che ne ha mangiati 2 3 queste state giusta 2 3 bellissimo dai vediamo cos'è full screen mettimelo ma non mi si vede oddio che fu lì in cima di montaere sì veramente a taglia tutte le caramelle fa come quelle di dietro a che bello ma non si era bello sì che le butta giù c'è erano tutti intatte ma una macchina che affonda what tipo nelle sabbie mobili what what è bellissimo però no what vabbè andiamo avanti ma non è bellissimo c'era una famiglia lì dentro era morta morta se dovrete per me spero che non ci sia nessuno con i commenti no si domani domani 20 minuti per farlo dai questo oddio che figata perché non me lo metti intero fullscreen e lì va avanti all'avanti all'infinito bellissima metà non è rigata altre metà sì dai ci sta forse il nodo il filo in texas il lago del lago del texas il figo si bella degli uccellini molto bene che bevono che bevono sopra delle foglie bene andiamo giù fantastico zero commenti perché nessuno l'ha visto cosa sta roba non so però è bello da vedere dai sì ma voglio capire cos'è a se hai un palco di no il tavolo vedete scherzando sta sembrando sotto di un tavolo dai ma ce l'ha scritto sopra sì in inglese ma vabbè ma si capiva un minuto di anche no bellissimo questa roba con gli stuzzicadenti seriamente bello che sembra un ricciottarò fantastico qua di massimo è bravissimo dai ma quello lo so fare tutti cambia lo so fare tutti sì sì mi senti in imbarazzo questo l'ho vista io no ce l'ho vista dal vivo però l'ho vista dal mio youtuber dovrebbe essere una cosa strappi beh sì è bella bene andiamo avanti ma che ecco come fanno bella soddisfazione soddisfatto sono come fanno bene vai avanti i cespugli tipo ma cos'è a questa qua è la buca a si so come come cambiano le buche tipo no come fanno a mettere la terra sarà bello guarda come come tolgono la terra come la mettono e qualcosa la tirano su la mettono a posto se domani qualcosa sta facendo sta mettendo la terra sta cucinando la pappa tira pugnete si vede poco è ora giusto e a buca lo si vede ancora di più guarda ma cos'è acqua no non penso sia acqua ora con rullo se non ha un po si vede sì ma pochissimo però se uno passa lì non vede niente cos'è è la vecchia fattore questa è la fattore che figo adesso cade scommettiamo guarda non ci sono le mattoni sono bastare su magica mi bastano a scorrere la colonna forse sì che bello ditemi se qualcuno scorreggia qualcuno scorreggia o tommy scorreggiate come colore una palla da baseball da baseball da basket ho letto male mai avanti se è una roba no questo è stra bello si ok ha una stretta di mano e che cos'è da fuoco voglio vedere no vediamo a giusta le sedie no se si scolori c'è se tipo diventa nuovo si sapeva resta ora che figo bellissimo che diventano tipo come nuove sono nuove praticamente bello e vabbè è lucido vabbè non voglio vedere che sta qua a fare tutte le fanno si è fatte e la torima se esatto ragazzi ho indovinato senza leggere lo giuro sono magneti di tos tipo ma che belli però pure col sushi a noi e banana vabbè vai avanti no no si è sushi la pigna bellissima la pigna ah è perfetta ok una sedia se la spacca in testa una sedia che diventa una vali beh la voglio si è questo qua che spellico proficione contro proficione 1v1 1v1 vai vediamo chi vince allora quello più scuro si chiama Gianmarco quell'altro Gianpiero ok io ti favo per Gianpiero no per Gianmarco no per me Gianmarco fa il figo e dopo muore Gianpiero ok è finito ah è già finito ma andiamo volevo vedere Gianpiero che vinceva cos'è vediamo wow e la figata sempre la stessa cosa si no si è in dentro qui oddio cos'è cos'è come fanno schippo un po' perché vai avanti dai beh bello eh oddio ah è messa al contrario è messa al contrario dai no no guarda vedi che fa che forza che va in piedi vai mi chiedo alla gente come va oddio che forte il trenino sembra finto tantissimo ma non lo è si fra no è possibile è finto tantissimo no non può essere alimentato da una batteria così a caso ma si ma no io c'ho una cosa che è finto tantissimo no è vero ragazzi scrivete nei commenti se è vero 941 commenti viene già a tutti si odio eh e se questo non è è photoshop no questo è photoshop ovvio però è una figata cioè non photoshop ma da noi è finto bello è sempre la stessa roba con il treno o colori diversi taglia l'erba taglia che non è erba ah si è erba no taglia perfettamente bello non ci credo no troppo bello questo tartaruga di ma è crea una tartaruga di mare con il cioccolato quando dici mamma una tartaruga mamma ha comprato una tartaruga vediamola il giorno dopo ti mangio la testa ah fa diverse cose con il cioccolato wow bello ma spero che sia colorante alimentare si spero ah così e dopo quello te le mangi non penso no non penso sì domani questo sì domani no ma non è fisicamente possibile che porta due bombole bello però non penso sia un bombole sì sono bombole wow oh dio dallo spazio sì crediti alla nasa fantastica ah ora fa vedere di nuovo quelle rosse però cambia niente quella lì è una penna che bella 3d penso oh be ah ovo l'ovo sì che figo sì la voglio anch'io wow wow un puzzle figo dai facciamo l'ultima cosa questa cos'è sta cosa un muro eh cos'è sabbia eh non so che figata boh vabbè direi che possiamo terminare qua spero che il video vi sia piaciuto lasciate un bel mi piace ah e iscrivetevi al canale attivate la campanellina la biancola e e ci vediamo qui ciao ciao i e alle sei andiamo a casa si si Grazie.